Sette suori in tonaca e velo che giocano sulla spiaggia. Questa la foto postata ieri sul proprio profilo Facebook dal presidente dell'Unione Comunità Islamica e Imam di Firenze, Izzedine El Zir. Nessun commento, ma un chiaro riferimento alla discussione sui burchini scoppiata in questi giorni. Stamani il profilo è stato bloccato a causa delle segnalazioni fatte dagli utenti, risultando irraggiungibile. Una sospensione che ha colto disprovvista lo stesso Imam. Sono sorpreso, ha detto El Zir. Non è comprensibile. Mi hanno chiesto di verificare il mio account inviando un documento. Infatti nel messaggio apparso quando l'imam ha cercato di rientrare sui social era scritto che il blocco era dovuto a molte segnalazioni sul nome fittizio dell'account che, secondo loro, non sarebbe stato di una persona reale. Verificare chi sono è una procedura molto strana, in ogni caso, spiega l'imam. Il post ha sollecitato una quantità di reazioni riaccendendo il dibattito sull'opportunità o meno di vietare il costume da bagno coprente che le donne islamiche usano per andare in spiaggia. Tommaso, per esempio, ha obiettato Ragazzi, ma vi sfugge che le suore appartengono a un ordine religioso e quella è un uniforme? L'abbigliamento dei laici è un'altra cosa. Il paragone con le suore non ha senso. C'è chi invece l'ha presa sul ridere, come Daniele, e anche quest'estate abbiamo trovato un argomento per discutere sotto l'ombrellone. Meno male, altrimenti avremmo parlato delle buche nelle strade. Un account bloccato quindi a causa di una foto sulle suore in spiaggia? Spero proprio di no, dice il ZIR. Viviamo in una società di diritto e di libertà. Spero non sia stato sospeso per una foto come questa, condivisa da più di 2000 persone in poche ore e che invita al dialogo. Perché non chiudere tante pagine Facebook che realmente incitano all'odio? Poi il presidente del UCOI spiega il motivo del post. Ho messo la foto senza neanche una parola, parlava da sola. Non siamo così lontani, ho voluto ricordare che anche nei valori culturali dell'Europa c'è questa realtà.